Beh, intanto mi aggrego ai saluti che Don Romano ha già fatto, menzionando quasi tutti i partecipanti per nome. Visto l'elenco dei partecipanti, mi sento esonerato dal compito che in questi casi ha chi presenta di far conoscere il relatore Romano Penna. Sono qua. Lo conosciamo tutti molto bene. Dico solo che per tutti noi è, prima di tutto, prima che un esperto, un biblista, eccetera, un amico, ma più ancora una guida alla scoperta della Bibbia. Tante volte ci ha fatto da guida a San Peire, ad Alba, per me addirittura in tempi più antichi in seminario. Una guida autorevole, sicura, e proprio la guida che ci vuole per percorrere certi sentieri, perché il sentiero su cui si guiderà stasera è uno dei più imperdi all'interno della scrittura. Proprio è uno di quei percorsi su cui è consigliabile non avventurarsi senza una guida. E allora lo ringraziamo per questo. Il titolo originario era Il racconto lucano della Pentecoste, dalla teofania del Sinai al dono dello Spirito di Cristo. Poi però mi è stato detto, da un romano, che questo sarà il punto di partenza per cercare di fare qualche passo in avanti e cercare di entrare insieme nel mistero dello Spirito Santo. Sappiamo che questo incontro è stato pensato anche come preparazione alla festa di Pentecoste e segue altri due incontri, quello sulla kenosis e quello sulla risurrezione. Così abbiamo in qualche modo completato il percorso sul mistero pasquale. E allora con questa indicazione di cammino ci mettiamo in ascolto, ci mettiamo al seguito della nostra guida. Buon cammino e buona relazione. Grazie professor Battista. Un cordialissimo saluto a tutti voi, in particolare al Vescovo, un ringraziamento per la sua presenza che ci fa piacere. Ecco, dunque siamo più o meno alla vigilia della Pentecoste. Parlare di Pentecoste significa parlare dello Spirito. Voglio però partire da un'osservazione di carattere calendariale, di un fatto di calendario, che è questo. Noi sappiamo che nel calendario liturgico cristiano la festa maggiore è la Pasqua, a cui converge tutto l'insieme e da cui promane e deriva anche l'insieme. La Pasqua è una festa tipicamente ebraica, caricata di una valenza cristiana, adesso non stiamo lì a dire insomma, però il fondamento è ebraico. Noi dipendiamo da una tradizione, da una matrice ebraica. Bene, questo non avviene per il Natale, perché poi l'altra festa forse a livello popolare non vorrei dire, ma sembra a volte che sia maggiore della Pasqua, insomma, come popolarità. Ecco, il Natale non ha una base ebraica, il Natale ha una base pagana. Noi non sappiamo quando è nato Gesù, più o meno l'anno lo si può intravedere, ma il giorno dell'anno no. Non sappiamo appunto se sia nato il 25 dicembre. Altri, ci sono stati dei tentativi anche in antico di collocare la data della nasita in altri momenti, insomma. Ma sotto la festa del Natale c'è una festa pagana, quella del cosiddetta del Sole, del Sole Invictus, che veniva celebrato a Roma, il Dio Sole, il culto, il Dio Sole è di origine orientale, siriaca, insomma. Ma dal III secolo, soprattutto, Elio Gavalo, Aureliano, gli imperatori, hanno introdotto e affermato, se non imposto, anche il culto al Dio Sole a Roma. Tanto che nel IV secolo, a metà del IV secolo, c'è stata ovvio questa decisione di raccontare, di celebrare, insomma, la nascita di Gesù il 25 dicembre, che era il giorno della festività del Sole Invictus. Ecco, quindi qui non c'è una base ebraica, c'è una base pagana. Ecco, ma questo non sminuisce affatto, anzi è un, come dire, è un segno di dialogicità, ecco, con l'ambito, in questo caso, romano, pagano, ecco. Ebbene, la Pentecoste è una terza festa che è anch'essa di origine ebraica. Quindi non il Natale, ma la Pasqua e la Pentecoste sono entrambe di origine ebraica. Ecco, questa è poi una domanda di curiosità, sapere come mai è stato assunto il giorno della Pentecoste e non la festa delle capanne, ecco, che è un'altra, la terza grande festa ebraica del pellegrinaggio a Gerusalemme, che era in autunno. Non c'è una festa cristiana che corrisponda a quest'altra, ecco, però la Pentecoste sì. Sì, perché abbiamo una descrizione, insomma, notevole in una fonte cristiana, cioè negli atti degli apostoli. da parte di Luca, cioè l'autore del terzo Vangelo, è colui che scrive anche di questo evento. E lo data, ha data il dono dello Spirito, proprio il cinquantesimo giorno di Pasqua. A livello ebraico, ancora ai tempi del Nuovo Testamento, la questione è discursa, ma la Pentecoste non aveva ufficialmente questo significato. Era una festa agricola, la festa delle primizie, detta anche la festa delle settimane, per dire che concludeva il tempo pasquale. Settimana 7 per 7, 49 più 1, alla perfezione, fa 50, insomma, ecco. Festa delle settimane o festa delle primizie, perché in quel giorno lì si offrivano al Tempio le primizie, soprattutto del grano, ecco, ma era una festa agricola, come non lo era più la Pasqua. La Pasqua lo era all'inizio, ma ai tempi del Nuovo Testamento la Pasqua era storicizzata, perché si riferiva all'Esodo dall'Egitto. Però una storicizzazione di quella festa all'interno dell'ebraismo e del giudaismo c'era, ma era marginale, come dire, settaria. Noi abbiamo un apocrifo ebraico del secondo secolo a.C., il cosiddetto libro dei Giubilei, in cui si dice che era conosciuto nella comunità settaria di Qumran, forse voi avete presente questa cosa, questa comunità, e che era celebrata la Pentecoste come festa del dono della legge o dono dell'alleanza. Quindi l'originaria Valenza agricola era stata cambiata e storicizzata. Ecco, dal punto di vista cristiano, noi abbiamo questo racconto di Luca, Atti 1-2, che non parla di primizie, ma parla di spirito, spirito santo. È curiosa la cosa, perché nell'ebraismo contemporaneo non c'era il riferimento allo spirito santo il giorno della Pentecoste. e Luca pone sullo sfondo, o parte, diciamo così, da uno schema narrativo che si trova nel libro dell'Esodo. Nel libro dell'Esodo, al capitolo 19, dove c'è la riunione, insomma, del popolo e Mosè offre e dona la legge e ci sono voci dal cielo, c'è un insieme di parlate. Tra l'altro, oggi giorno, sullo sfondo di questa pagina degli Atti, non si vede più l'episodio della Torre di Babele, che è in Genesi 11, dove anche là c'è un mucchio di gente, ecco, però la pluralità delle genti è conflittuale, sta a indicare proprio una dispersione. Invece qui, nel racconto di Luca, le varie genti che sono menzionate, adesso non vado proprio nei dettagli, sono raccolte, unite insieme e soprattutto la grande bella novità, è che qui, sì, c'è la voce dal cielo, il tuono, ecco, c'è un testo ebraico, poi anche la menzione del fuoco, questo viene, nei testi rabbinici, viene utilizzato molto, perché i testi rabbinici, che sono tutti posteriori all'anno 70, cioè alla distruzione del Tempio, celebrano la Pentecoste come giorno del dono della legge, quindi l'alleanza sancita, ecco, tra Dio e il suo popolo. Ma qui siamo già, i testi che ne parlano sono posteriori a quelli del Nuovo Testamento. Si può dire che il testo del Nuovo Testamento in qualche modo anticipa quello che è poi la posizione del giudaismo ufficiale. Ecco, anche se per la verità il racconto di Luca negli Atti non parla di dono della legge. Lo Spirito Santo che si rivela non è presentato come la nuova legge. e tra l'altro c'è un'altra, un'altra, come dire, apparente contraddizione che va subito accennata, ed è che il testo di Luca è unico nel suo genere. Della risurrezione parlano tutti i testi neotestamentari, ma della Pentecoste ne parla solo Luca, come anche solo Luca ha parlato dell'ascensione. Ecco, tra la Pasqua e la Pentecoste c'è questo relais, diciamo, questo trait d'union, che è l'evento dell'ascensione di Gesù al cielo, che meriterebbe delle precisazioni, perché è un racconto che ha delle analogie anche al di fuori del cristianesimo. Ecco, non solo nell'ascensione di Isaia, ma anche in Romolo. Di Romolo si dice che è salito al cielo, nei testi romani, ecco, ma anche di altri personaggi, un filosofo, Apollonio di Chiana, eccetera. Quindi l'ascensione evidenzia la sottrazione fisica di Gesù all'esperienza dei suoi discepoli. E lo spirito che invece viene dato il giorno di Pentecoste è uno spirito di Gesù stesso, cioè un dono di Gesù stesso. Ma questo volevo dire che c'è un altro modo di vedere le cose che è espresse dal quarto Vangelo, Giovanni, il quale nel capitolo 20, cioè il giorno di Pasqua, non 50 giorni dopo, nel giorno di Pasqua apparva i suoi discepoli, alitò su di loro e disse ricevete lo Spirito Santo. Il giorno di Pasqua. Ed è interessante quello che scrive lo stesso evangelista, prima nel suo Vangelo, capitolo 7. Dice che lo Spirito non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi c'è un modo di vedere lo Spirito che è tipicamente cristiano, perché di Spirito Santo, se ne parla in Israele, l'espressione Spirito Santo è rara nell'Antico Testamento, ma è frequente negli scritti rabbinici, quindi dell'intelligenza, diciamo così, ebraica, insomma. Ecco, non è una locuzione cristiana, Spirito Santo. E cristiano è il modo di intendere l'identità dello Spirito Santo. Ecco, ma lo Spirito, che cos'è lo Spirito? Eh, qui siamo di fronte a un mare magnum di semantica. Lo Spirito, nel linguaggio biblico, lo Spirito sta... Tra l'altro voglio dire una cosa, che il termine Spirito viene dal latino spiritus, che è di genere maschile. L'ebraico è femminile, ruach. Il greco è neutro, pneuma. Quindi qui sarebbe una teologia di genere, ma di genere nel senso che ciò che noi diciamo con Spirito non è riducibile ad una dimensione sessuale, a cui invece sarebbe, farebbe riferimento la dizione di padre e di figlio. Che tra l'altro è più facile immaginarsi. Noi pensiamo a un padre e a un figlio, sono delle persone. Invece pensare allo Spirito come una persona è difficile, perché lo Spirito, nel linguaggio biblico, può essere... può essere o il vento che spira fuori di me, o l'alito che esce da me, dalla mia bocca. Qualcosa comunque di imponderabile, a parte che poi nel linguaggio biblico ci sono altre metafore come l'acqua che pulisce e il fuoco che purifica. Molto raro è la metafora della colomba, che noi abbiamo praticamente solo nel caso di Gesù, al Giordano, insomma. ma le grandi metafore sono queste. Vento, alito, fuoco e acqua. Che sono tutte, come dire, tutte metafore di genere vitale, vitalistico, come dire. Ecco, perché esprimono un concetto di vita, di dinamismo vitale. Ecco, ecco. Ora, ci sono tutti i generi. Nel linguaggio nostro corrente, lo Spirito può essere, appunto, da un punto di vista greco, la differenza col corpo, può essere identificato con l'anima. Lo Spirito può essere condotto a un discorso favolistico. Lo Spirito, il fantasma, gli elfi, gli gnomi, ecco, dei racconti favolistici, Spiriti che non esistono neanche, insomma. Un altro uso del termine è, a livello filosofico, Hegel è noto per la filosofia dello Spirito, che poi è trattato anche lì in modi diversi. C'è lo Spirito assoluto, addirittura, ma che non è lo Spirito di Dio, propriamente parlando. Ecco, fondamentalmente è un soffio che dona la vita. Noi abbiamo primo riferimento alla creazione, perché lo Spirito produce sempre qualcosa. C'è l'inno della Trinità, digitus paterne dextere. Cioè, lo Spirito è il dito della destra di Dio, ma non il dito alzato in segno di comando, il dito in quanto tocca, tocca su una superficie, non so, del computer, di uno schermo, e cambia l'immagine. Ecco, digitus paterne dextere. Lo Spirito è l'intervento di Dio, concreto, preciso, produttivo. Ecco, e lo vediamo subito all'inizio del racconto della creazione. Lo Spirito alitava sulle acque e favorì il passaggio dal caos al cosmos. Ecco. Poi abbiamo l'intervento dello Spirito nei profeti. E qui è interessante fare una precisazione di linguaggio, perché lo Spirito scende, diciamo, dall'alto, e si posa su, sopra. Non c'è l'espressione dentro, insomma, non entra dentro. Lo Spirito sta sopra, a significare l'alterità, la diversità, la non riduzione alla dimensione puramente creaturale o in questo caso umana. Ecco. Scende su. Guardate, questo lo vediamo anche nel Nuovo Testamento, a partire dall'annuncio a Maria. quando Maria fa la sua obiezione come avverrà questo e l'angelo, lo Spirito Santo risponde scenderà su di te. Non dice in te, dentro di te. Dice su di te. E la stessa espressione l'abbiamo a proposito del battesimo al Giordano per quanto riguarda Gesù stesso. e lo Spirito scese su Gesù. E come a dire che esso, Spirito, svolge una funzione di spinta, che avvolge dall'esterno. Non è di origine umana, mondana, creaturale. Per lo meno l'uso di questa preposizione significa questo, che non viene dal basso, non è endogeno, è una forza esterna e mantiene la distanza, la differenza, per lo meno, non la distanza, ma la differenza rispetto a chi ne benefica. dire lo Spirito in. Nell'Antico Testamento lo si trova in Ezechiele 37, ma come profezia dei tempi ultimi. Verserò il mio Spirito in voi, riceverete il mio Spirito, ecco, in voi. E questo, nel Nuovo Testamento, è detto, è implicito nelle parole già citate di Gesù il giorno di Pasqua, ricevete lo Spirito Santo, il dono che fa a loro proprio. Ma poi c'è l'espressione paolina dello Spirito effuso nei nostri cuori. quindi lo Spirito, dal punto di vista cristiano, non è solo una forza esogena, una forza esterna, è una forza altra, certo, non di origine umana, ma è una forza che ti prende dall'esterno, ti spinge, ti avvolge, ecco, ti fa proprio. Tu sei in mano ad un altro, diciamo così, grosso modo, ecco, ma sei in mano dal di dentro, perché entra nei nostri cuori. Ah, questo è straordinario, ecco. In Marco leggiamo di una bestemmia contro lo Spirito Santo, in Marco capitolo 3, là quando Gesù dice ogni colpo, ogni peccato verrà perdonato, eccetto il peccato contro lo Spirito Santo, dice così Gesù. e in quel caso lì la bestemmia contro lo Spirito Santo non è, tenendo conto del contesto, non è precisamente contro lo Spirito in se stesso, ma è, significa negare che Gesù proceda sotto la forza, con la forza dello Spirito. Infatti, Marco conclude, dicevano infatti che ha uno Spirito maligno, cioè c'era una obiezione, una contrapposizione a Gesù, ecco, che era di negazione della sua divinità, ecco, o del fatto di camminare con la forza dello Spirito. Ecco, nei sinottici non c'è molto insegnamento sullo Spirito, c'è nel quarto Vangelo quando Gesù prospetta un nuovo tipo di adorazione del Padre in Spirito e verità, ecco, nel senso che il culto reso a Dio deve essere animato dal suo Spirito, che nel contesto Giovanneo richiama la necessità della specifica rivelazione portata da Gesù. E quindi si parla di Spirito di verità, vi sapete nel quarto Vangelo c'è la qualifica di paraclito addirittura, un termine non italiano, il termine è greco di per sé, vuol dire avvocato, uno che è chiamato accanto a te, ecco, che ha la funzione di assistente, di garante, di sostegno, di protettore, ma sapendo che lo stesso titolo viene dato a Gesù in persona nella prima lettera di Giovanni. Infatti, nel quarto Vangelo Gesù dice vi darà un altro paraclito, il padre mio, ma nel quarto, nella prima lettera di Giovanni dice se noi abbiamo peccato abbiamo un paraclito nel cielo che è Gesù, è Gesù. Quindi, perché vedete, parlare di Spirito in un'ottica cristiana significa parlare di Dio, questa è la matrice ebraica, ma significa parlare di Gesù. Non per nulla nell'Antico Testamento il costrutto con il genitivo è sempre di Dio, Spirito di Dio, Spirito del Signore. C'è una sola eccezione nel libro dei Re che Dio suscitò lo Spirito di Ciro, di Ciro, quando Ciro permette agli ebrei di lasciare l'esilio babilonese e tornare nella terra del Cana, la terra in Palestina, insomma. Gli si parla dello Spirito di Ciro. Nel Nuovo Testamento lo Spirito è Dio e Spirito Santo, si intende normalmente lo Spirito di Dio. Eppure Paolo inizia un nuovo linguaggio quando parla di Spirito del Figlio, lettre ai Galati, lo Spirito di Cristo, ai Romani, lo Spirito di Gesù Cristo. Un'eccezione c'è anche in Atti capitolo 16 dove si parla dello Spirito di Gesù. Ecco, questo è un linguaggio nuovo. Non si parla mai nel giudaismo di uno Spirito del Messia. Lo Spirito è di Dio e basta. Che lo concede, lo fa scendere su, eccetera, come dicevamo. Ecco. Ma questo è il fatto. Alla base della concezione cristiana dello Spirito c'è la risurrezione di Gesù. durante la sua vita terrena infatti il suo rapporto con lo Spirito non differisce molto da quello dei grandi protagonisti del passato israelitico poiché a parte l'insegnamento che Gesù ne dà, lo Spirito è semplicemente una forza che assiste Gesù quasi dall'esterno. Ecco, abbiamo già detto che lo Spirito discese sopra di Lui non dentro di Lui ma questo è un modo ebraico di dire ma che dal punto di vista cristiano suppone la diversità il passo enorme che è stato fatto con la risurrezione perché il risorto non è più soltanto un fruitore passivo dello Spirito ma ne diventa elargitore attivo Nella Prima Corintia al capitolo 15 Paolo fa la differenza fra il primo Adamo che è diventato un essere vivente psichezosa e l'ultimo Adamo cioè Gesù che diventa uno Spirito vivificante pneumazopoium ecco dunque ciò significa che con la sua glorificazione o risurrezione lo Spirito acquista una dimensione davvero nuova d'ora in poi non sarà più soltanto lo Spirito di Dio genericamente Spirito Santo ma sarà ormai per sempre lo Spirito del risorto ecco l'angelista Giovanni racconta che la sera stessa di Pasqua come dicevamo donò lo Spirito Luca con il racconto della Pentecoste data addirittura 50 giorni dopo la Pasqua il dono il dono dello Spirito e qui c'è il discorso di Pietro sempre in Atti 2 a proposito di Gesù dice essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso lo ha effuso come voi vedete e sentite viene da dire che se non c'è nulla anche nella Chiesa se non c'è nulla da vedere da sentire non c'è lo Spirito che lo Spirito si rivela così con degli interventi particolari precisi insomma ecco e anche il racconto degli Atti mi pare che a volte si dice che la Chiesa è nata il giorno di Pentecoste no? che la fusione dello Spirito sarebbe un po' la fondazione non è vero questo perché di Spirito lì non si parla nel racconto della Pentecoste non si parla della Chiesa a parte il fatto che ho presente forse lo conoscete anche voi Sant'Agostino quando è nata la Chiesa dice Sant'Agostino è nata dal costato ferito di Gesù Oriente Cristo Ecclesia Facta Est Agostino porta l'esempio di di Adamo e di Eva Eva che è stata tratta dal costato di Adamo e la Chiesa è stata tratta dal costato di Cristo quindi non è la Pentecoste che fonda la Chiesa e tuttavia nel libro degli Atti c'è chi ha detto che il libro dovrebbe essere intitolato non Atti degli Apostoli ma Atti dello Spirito Santo perché nel libro degli Atti lo Spirito è il principio attivo dinamico insomma già nei battesimi che vengono fatti a Gerusalemme a Damasco quando Paolo riceve lui il battesimo quando Paolo a Efeso alla fine del suo terzo viaggio fa convoca i presbiteri a Mileto convoca i presbiteri di Efeso e dice loro che lo Spirito sono presbiteri eh lo Spirito vi ha posti come episcopi della 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 Chiesa perché il termine episcopo qui meriterebbe un discorso a parte episcopo di per sé vuol dire sorvegliante custode insomma ma là è detto dei presbiteri ecco ma poi quando Paolo parte verso Gerusalemme dice io con lo Spirito che mi spinge vado a Gerusalemme quindi già gli atti degli apostoli dunque denotano la presenza la forza del dello Spirito in effetti il il racconto lucano della Pentecoste ha nel suo nel suo fondo l'idea della missione lo Spirito che viene dato viene dato con menzione di vari vari popoli perché sia poi diffuso l'Evangelo nelle varie regioni ecco adesso non possiamo stare ai dettagli perché lì si menzionano dei popoli che non sono oggetto di narrazione negli atti e viceversa in quell'elenco di popoli in atti due non ci sono dei popoli che invece risultano nel racconto degli atti insomma ecco ma un discorso ampio più pieno diciamo così sullo Spirito viene poi fatto da Paolo perché dicevo la Pentecoste era almeno in parte celebrata come rinnovazione della legge dell'alleanza ma questo in Luca non è esplicito comunque non è neanche esplicito che lo Spirito dal punto di vista lucano sia la legge dei nostri cuori nei nostri cuori in Luca lo Spirito è presentato come una forza dall'esterno Paolo invece nelle sue lettere ne parla come di una forza interna donata intendiamoci non endogena non che venga dall'interno ma è nell'interno ma di origine extra ecco ecco e e qui davvero in Paolo si vede bene che lo Spirito è come la nuova legge nel libro nella lettera di Paolo ai Romani questo è detto è detto chiaro capitolo 8 per esempio dice Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato mediante la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù la legge dello Spirito c'è lo Spirito che diventa norma diventa punto di forza di cui godere insomma per la propria vita e e e però Paolo fa questo questo ragionamento sullo Spirito contrapponendolo alla lettera nella nella seconda ai Corinti dice la lettera uccide lo Spirito vivifica ma ma cos'è la lettera non è la lettera che si scrive invece della cartolina la lettera è intesa nel contesto come la lettera della legge che mantiene anche il cristiano in una minore età e nella lettera ai Galati Paolo esprime proprio questa metafora venendo dalla pienezza del tempo Dio mandò lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori che grida Abba Padre infatti quando eravamo bambini eravamo come schiavi nel contesto lì Paolo equipara la minore età alla schiavitù cioè alla mancanza di una personalità propria ecco di una di una svendita ecco ad altri ora lo Spirito ti fa passare dalla minore età a una età maggiore ti fa diventare maggiorenne questo è il senso di Paolo tanto che porta l'esempio di Abramo con le due mogli una schiava e una libera Agar e Sara ecco per dire che noi siamo figli della libera figli di Sara e per la libertà Cristo ci ha liberati in Galati 5 1 e che libertà è questa che lo Spirito ti dona non è la libertà del libertinismo leggiamo un testo della Lettera ai Galati proprio il frutto dello Spirito è amore gioia pace magnanimità benevolenza bontà fedeltà mitezza dominio di sé contro queste cose non c'è legge ecco insomma che Paolo polemizza contro la legge perché la legge favorisce l'affermazione di sé mediante le proprie opere come nella parabola del fariseo e del pubblicano avete presente in Luca il fariseo che si vanta davanti a Dio perché fa tutto quel che deve fare secondo la legge invece il pubblicano in fondo dice abbi pietà di me che sono peccatore e Gesù commenta quella parabola dicendo che costui tornò a casa giustificato a differenza dell'altro ecco lo spirito ti dà una personalità che poi volendo stringere proprio nel senso delle cose la personalità è quella dell'amante dell'amore non per nulla in questo elenco di frutti tra l'altro il frutto dello spirito è primo posto c'è l'amore 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 che è il oggetto il centro dell'annuncio evangelico cosa annuncia l'evangelo annuncia l'amore di Dio per noi i romani domani 5 quando ancora eravamo peccatori Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi ecco lì si vede la personalità proprio speciale ecco unica nel suo genere perché lì Paolo dice a stento si trova qualcuno che dia la vita per un amico ma Gesù ha dato la vita per i nemici ecco per i peccatori questo è il Vangelo e i peccatori siamo noi ora per la libertà Cristo ci ha liberati ci ha liberati da noi stessi liberarsi dal peccato vuol dire liberarsi da noi stessi è sempre curiosa interessante la definizione che Lutero dà del peccatore nel suo commento ai romani il peccatore è uno incurvatus in seitzum uno ripiegato su se stesso praticamente chiuso in se stesso e che giudica gli altri la realtà dal proprio punto di vista quasi come accaparramento facendone una propria una proprietà personale invece la redenzione e lo spirito è uno che ti libera da te stesso perché ti proietta all'esterno com'è l'amore l'amore è per definizione una proiezione verso l'altro verso gli altri insomma ecco ora nei nostri cuori dice Paolo lo spirito grida Abba Padre è anche in questo senso che tra i romani dice non ci ha dato uno spirito da schiavi per ricadere nella paura dice Paolo uno spirito di figli col quale gridiamo appunto Abba Padre ecco tra l'altro sono due passi paralleli Galati 4 Romani 8 in Galati 4 è lo spirito che grida Abba Padre in Romani 8 ci ha dato uno spirito col quale noi gridiamo Abba Padre viene quasi a darsi una identificazione tra lo spirito e noi che ne usufruiamo lui grida ma siamo a noi che gridiamo o viceversa entrambi insomma ecco la personalità del cristiano si forma così con la ricezione dello spirito che diventa uno stimolo interiore che porta a donare dei frutti ecco perché nella lettera ai testalonicesi Paolo raccomanda non spegnete lo spirito non spegnete lo spirito supponendo l'immagine del fuoco ecco perché è il fuoco che scalda il fuoco che ha una una potenza insomma c'è chi porta l'esempio del rapporto tra il soffio e la parola se io ho una candela accesa davanti a me e voglio spegnerla se dico soltanto spegniti non si spegne ma se io soffio sulla fiamma la fiamma si spegne ecco a parte qui che dice non spegnete ma per dire che lo spirito è questa questa forza e in Romani 12 raccomanda siate ferventi nello spirito quasi il termine greco quasi richiama un ribollimento ecco siate ferventi ardenti nello spirito ecco esponetevi allo spirito quando vi viene incontro e raccoglietelo e fatene parte di voi stessi ecco questo è il questo è l'insegnamento fondamentale che noi riceviamo detto all'ingrosso quindi lo spirito ti toglie la paura perché ti libera da te stesso ti porta a una maggiore età che ti fa responsabile della tua vita ecco e ti rende libero libero da te e libero da ogni condizionamento anche moralistico perché sapete che l'insegnamento di Paolo è questo alla radice delle cose non c'è ciò che faccio io ma è ciò che ha fatto Dio per me in Gesù Cristo mediante lo spirito appunto se avete delle cose da dire ditele subito o taccete per sempre questa è una battuta è chi rompe il ghiaccio adesso si possono aprire i microfoni te prima siano i microfoni chiusi ah ecco te l'ha chiusa grazie ci concediamo alcuni minuti per qualche domanda qualche certo approfondimento qualche spunto di riflessione ulteriore a volte sono più intelligenti le domande che non le risposte quindi coraggio difficile posso fare una domanda si chi è analisa buonasera grazie innanzitutto grazie sempre la professoressa buonasera buonasera dica dica torno sul mio terreno quando Cleante fa l'inno a Zeus e parla di questo logos che lui ha in questo inno alla fine lo fa diventare Zeus ma in modo così allegorico perché lui sta parlando del logos stoico e poi usano questi termini pur pneuma quindi il logo stoico aveva queste caratteristiche o meglio queste immagini di fuoco di soffio lo definivano anche così quindi però è qualcosa di immanente cioè che sta dentro ecco ecco e non trascendente esatto questa è la differenza ok questa è la differenza il logos greco è qualcosa che poi si vede ancora di più nello stoicismo insomma Cleante non per nulla partiene allo stoicismo e l'auto l'autocostruzione insomma con il con il logos c'è da dire che nella prospettiva greca il logos è diffuso in tutto il cosmo insomma ecco e bisogna anche percepirlo insomma però definisce la persona dal punto di vista immanente non c'è il logos di Dio ecco non c'è ecco c'è il logos come potenza divina a sé stante insomma ecco quindi è molto interessante e l'altra domanda invece è un po' più diciamo da ex catechista in pensione o in pausa per i ragazzi che fanno che si preparano al sacramento della cresima cioè noi associamo facciamo molta fatica direi a far capire che cos'è questo sacramento che comunque dà il carattere diciamo c'è questo carattere questo sigillo e adesso dà la personalità costruisce la personalità forse riusciremmo a cioè a fare capire meglio ma è veramente difficile per i ragazzi e poi c'è questo dibattito più o meno che età quando ma questo sacramento è un po' complicato ecco diciamo da far apprezzare da valorizzare e da non sprecare perché poi questo spirito è un dono ma se non lo accogli insomma non so certo certo sì sì bisogna pur dire che la fede è fatta anche di un contenuto insomma ha bisogno di un linguaggio la fede è diverso però il linguaggio di un ragazzino dal linguaggio di una professoressa di liceo insomma ecco cioè da adulto l'importante è proprio questo che che avvenga uno sviluppo un'evoluzione nella vita del singolo cristiano se uno rimane fermo alle categorie dell'infanzia e beh non costruisce la sua personalità neanche quella cristiana insomma quindi Sant'Agostino se la fede non è pensata è nulla quindi pensare vuol dire metterci del proprio del mio insomma ciascuno ci mette del suo perché ci mette la sua vita ecco questo è importante quindi quando si è con i ragazzini bisogna trattarli a livello loro per carità però lasciando intravedere che le cose possono essere approfondite no con con più senso non so come dire ecco questo è il fatto mi sembra importante sottolineare parlando dello spirito una delle ultime cose che dicevi cioè il fatto che lo spirito ti fa diventare maggiorenne anche in chiave catechistica ecco c'è una fase della vita in cui agisci perché qualcuno ti dà gli ordini qualcuno ti guida passo passo arriva a una fase della vita in cui da persona adulta sei tu che scegli sei tu che decidi cosa devi fare della tua vita ecco credo che presentare lo spirito come colui che ti fa diventare maggiorenne dal punto di vista di fede dal punto di vista cristiano sia un passaggio che può essere compreso con una certa facilità e soprattutto può essere efficace per mostrare la valenza esistenziale di questo dono altrimenti rimane qualcosa di molto certo di molto aereo che diventa difficile davvero provare a spiegarlo ma questo discorso la professoressa Nolli non è un discorso da fare ai bambini ai ragazzini quando Paolo scrive queste cose le scrive a degli adulti cioè l'adulto sa cosa vuol dire essere minorenne ma il minorenne non sa cosa vuol dire essere adulto ecco quindi è perché l'adulto ha acquistato una responsabilità che il minorenne non per nulla Paolo nel contesto equipara il minorenne a uno schiavo che agisce per obbedienza altrui insomma non ci mette del suo beh insomma adesso detto all'ingrosso insomma ecco ma il maggiorenne sviluppa una sua diventa responsabile di quello che fa ecco questa è la cosa importante il ragazzino pone la sua responsabilità nei genitori o nei nei maestri che so io nei professori non so ecco ma l'adulto invece ha ha una una sua area di 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 personalità proprio specifica che non è di chiusura intendiamoci ecco Lutero dice il cristiano è uno che è è sopra tutti libero da tutti ma è uno che sta sotto tutti ed è servo di tutti paradosso perché il paradosso è fondamentale nel cristianesimo diceva Kierkegaard insomma ecco sono come due contrari che si equivalgono o si fondano l'uno l'uno con l'altro tu sei sotto l'altro perché sei chiamato ad amarlo ecco ma sei sopra non sopra l'altro sei sopra di te stesso sopra della tua la tua base inferiore insomma infantile ecco perché sei cresciuto sei cambiato insomma lo spirito ti dà questo dinamismo lo spirito è colui che ti porta a questa dimensione ecco che è spirito di Dio spirito di Cristo ed è spirito in se stesso ecco qui c'è poi il dogma trinitario che è stato poi proclamato a Nicea esplicitando dai dati neotestamentari ecco anche questa sottolineatura dello spirito che spinge ad amare ti dà invece a volte ripeto a livello catechistico che in queste difficoltà ci sta questa cosa i ragazzi devono sapere a memoria i sette doni dello spirito santo di cui poi non si capisce sapienza intelletto consiglio fortezza no che poi in realtà loro dice abbastanza poco mentre dire la parola amore loro lo capiscono esatto capiscono molto meglio scienza pietà timore di Dio che poi non so mi sembra che a volte ci perdiamo un po' sono concetti un po' astratti questi qui prudenza sapienza eccetera ma insomma al ragazzo all'uomo interessa il sapiente il prudente con lui che sa fare le cose insomma che sa destreggiarsi ecco e questo è molto importante sì ci vuole questo discorso che poi è il centro dell'Evangelion è proprio questo io mi permetto come non so se posso dire una cosa ma lei mi ha messo ma la professoressa mi ha mi ha provocato su questo allora faccio una confessione pubblica sì siccome come Vescovo la Cresiva ormai specialmente in questo periodo è continuo tutti i sabati domeniche più turni eccetera eccetera quindi una grande abbondanza di Spirito Santo anche io qualche volta vi chiedo i ragazzi che sono lì che cosa comprendono fino in fondo cosa capiscono eccetera e siccome c'è quel bel gesto dell'imposizione delle mani con la preghiera che Vescovo dice prima prima di conferire il sacramento che da proprio l'idea dell'idea dello Spirito Santo che scende su di loro eccetera ecco questa preghiera io mi sono preso una licenza liturgica spero di non essere denunciato perché al termine di questa preghiera dove vengono citati i doni dello Spirito Santo l'ultimo citato è Timor di Dio no Timor di Dio io non dico mai Timor di Dio io sempre Amore di Dio Amore di Dio ho tradotto Timore con Amore no ecco questa è una variante testuale insomma perché mi dava l'impressione che già è difficile comprendere ma dire a questi ragazzi che lo Spirito Santo ci dà il Timor di Dio ma che cosa vuol dire per loro devo avere paura di Dio ma io non penso che dobbiamo dire ai ragazzi che devono avere paura di Dio no questo no sì sì allora vi prendo questa licenza liturgica non so se se tu la condividi Romano ma guardi non denunciarmi però ecco perché ho cambiato il testo liturgico farò il possibile perché le cose stiano tra tra noi ecco no è perché c'è una piccola osservazione da fare su questo costrutto amore di Dio qui è un genitivo che genitivo è normalmente noi lo intendiamo come genitivo oggettivo cioè amore di amare Dio come oggetto del mio amore ma nel linguaggio neotestamentario linguaggio evangelico è soggettivo il genitivo l'amore di Dio è il suo Paolo ai Romani dice chi ci separerà dall'amore di Dio in Cristo l'amore suo la morte le sofferenze eccetera nulla ci separerà dall'amore che Dio ha per noi quindi la variante è molto interessante vi dovrebbe però fondarla nel senso che se io amo Dio non lo amo da un punto di vista naturale come un filosofo greco ma lo amo in Gesù Cristo perché lui ha amato me prima il mio è un amore di corrispondenza diciamo ecco possiamo dire così ma se no è molto interessante il cambiamento c'è anche un'assonanza tra timore e amore fanno anche rima ecco posso dire posso dire prego alto rimane comunque il fatto che anche parlando agli adulti nella fattispecie domani sera avremo 38 genitori da intrattenere sulla sulla prossima cresima a Pavia e prima comunione in Pavia ecco rimane come dire la difficoltà di far intendere anche agli adulti la necessità di un terzo elemento del divino quindi questo spirito santo che si affianca a Dio e a Gesù è un rimane un problema è chiaro che stasera sentendo quello che hai spiegato in modo così bello chiaro per chi ha un minimo di traffico su queste cose insomma l'orientamento c'è ritengo difficile far comprendere l'esistenza di questa divinità se non per il fatto che vabbè noi possiamo dire per la straordinarietà degli effetti che questo spirito produce lo assimiliamo al divino da cui esce sì ecco quindi c'è questa possibilità di identificazione sia con Dio che con Cristo ma rimane sempre un ostacolo ecco al di là del dogma rimane rimane uno come dire un bel macigno ecco sì c'è questa interessante perché mi porta a precisare nei più antichi rabbini quando il cristianesimo è iniziato c'è dal parte giudaica c'è un'accusa fatta ai cristiani di aver messo due principi in cielo non uno solo due non tre all'inizio c'è un'abbinità non la trinità come percezione insomma esplicita l'abbinità è di Dio padre e figlio infatti in prima corinthia capitolo 8 dice Paolo ci sono molti re sulla terra molti signori però per noi c'è un solo Dio il padre è un solo signore Gesù Cristo non c'è lo spirito però lo spirito è la come dire è il tre d'union tra i due perché qual è la novità cristiana è che un uomo di nome Gesù finisce per condividere su un piede di uguaglianza l'identità del padre quando Pietro lì a Pentecoste dice che è stato innalzato alla destra di Dio stare alla destra cosa significa significa condividere avere sullo stesso piano soteriologico diciamo così ma mettendosi sulla destra di Dio condivide l'identità di Dio padre e l'identità di Dio padre implica questa dimensione dinamica che è lo spirito ora quindi lo spirito diventa non solo del padre ma anche del figlio ecco non per nulla è difficile come dicevo prima parlare di una persona del spirito come persona perché nel nostro linguaggio il padre e il figlio sono due persone ma lo spirito è il vento è qualcosa che è inafferrabile ma proprio per questo è qualcosa che si imprime nell'uno e nell'altro ecco il dogma della trinità dice che uno non sta senza l'altro insomma ecco non c'è lo spirito santo come Dio a sé stante non c'è c'è lo spirito che è di Dio padre e di Dio figlio di Gesù figlio insomma avere lo spirito santo significa coltivare una comunione intensa con Dio padre con il spirito con Dio figlio ecco questo questo è la 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 sensatezza diciamo del dogma è tutta qui ecco grazie eh prego prego coraggio chi ha ancora qualcosa da dire o da chiarire sfruttiamo queste occasioni volevo io sono Giorgio mi sentite perfettamente volevo dove lo si vede dove non mi vedete perché ho la telecamera spenta ah ok con il cellulare è un po' un casino sentiamo sentiamo no mi ha fatto molto riflettere quando lei diceva parlava di questo spirito santo che è all'interno di noi e poi quando diceva anche che questo spirito santo si dice a Maria io sono sopra di te no cioè queste due funzioni dello spirito santo io poi lei parlava anche a un certo punto se non mi sbaglio di questo spirito santo che non è una cosa oppressiva ma una cosa ti rende ti lascia libero sì ti lascia libero di agire e siamo noi che continuamente possiamo agire secondo il suo spirito o secondo la nostra coscienza sì e allora tutte le volte no ci troviamo sempre a fare i conti con questo spirito santo perché Gesù ci ha dato una cosa bellissima che è questa libertà che però quotidianamente noi dobbiamo sempre dire rinnovare in ogni in ogni istante della nostra vita e questa la ritengo una cosa bellissima però allo stesso tempo difficile perché comunque impegnativo impegnativo perché comunque siamo tutti viviamo tutte delle realtà dove comunque agire secondo lo spirito santo non è sempre facile e questo spirito santo specialmente nella preghiera non è sempre facile da incontrare perché noi possiamo cercare il silenzio per ascoltare questo spirito ma tante volte non ce la facciamo perché i pensieri della giornata le difficoltà ci impediscono di ascoltare questa voce io faccio un esempio magari leggo un pezzo di Vangelo però ci penso mezz'ora ma dopo un'ora o due non mi ricordo neanche più di quello che ho letto o di quello che ho pensato cioè non se la vi se la vi la vita è così ci sono preoccupazioni impegni lavori da fare eccetera certo diverso è l'eremita che abita da solo in una grotta che so io non ha altro da fare che leggere e meditare sul Vangelo però un uomo normale come lei insomma porta alla possibilità di portare il Vangelo dentro la vita quotidiana ecco non lasciarlo da parte ai margini borderline ecco ma portarlo dentro farne un condimento diciamo così delle proprie giornate insomma tutto qui ma lei ha fatto una bella domanda in ogni caso interessante si vede che ci riflette e questo è il segno dello spirito grazie prego bene allora credo che possiamo avviarci alla conclusione sì nel senso che vedo che non ci sono più domande ovviamente ognuno di noi si porta a casa qualcosa da questo incontro e quello che si porta a casa è davvero un dono dello spirito che ci aiuta a vivere la vita nei prossimi giorni nelle prossime settimane prima di tutto a vivere con maggiore consapevolezza la festa di Pentecoste io dico tre cose che mi porto a casa da questa serata tre idee che mi hanno colpito che possono aiutarmi a vivere meglio la mia vita nei prossimi giorni lo spirito che ti toglie la paura lo spirito che ti porta ad una maggiore età ad un maggiore senso di responsabilità e anche se uno ormai in pensione ha ancora sempre una maggiore età da conseguire è lo spirito che ti dà un po' di forza per la missione come vediamo in tutti gli atti degli apostoli o se vogliamo dirlo in un in unica espressione avevo chiuso una settimana fa la mia chiacchierata sulla risurrezione dicendo che incontrare il risorto è sapere cosa farne della vita ecco sapere cosa farne della vita credo che sia un dono che lo spirito santo ci fa non solo quando siamo adolescenti e abbiamo la vita davanti abbiamo tanti progetti per la nostra vita ma in qualsiasi fase della vita e dell'età noi abbiamo bisogno di sapere cosa farne della vita lungo o breve che sia è sempre importante viverla bene ecco lo spirito santo mi pare sia l'aiuto che Cristo risorto ci offre per realizzare questo obiettivo che lui ci chiede ecco questo è quello che io mi porto a caso poi sarebbe interessante limita anche condividere non abbiamo ancora dimestichezza le riflessioni che hanno fatto presa dentro di noi ma magari ci arriveremo quando sia in presenza è più facile la distanza effettivamente è più difficile per cui se non ci sono altri interventi o altre notizie informazioni io chiuderei qua però Luciano non so ci sono altri appuntamenti impegni il prossimo appuntamento sarà giovedì 10 giugno alle ore 21 avremo un incontro con la professoressa Ivana Capriolo di arte sulla figura della donna nell'arte degli ultimi secoli vi aspettiamo tutti grazie bene bene questi saranno gli avvisi finali dimenticato chiedo scusa ancora un avviso l'associazione Alec collabora con la fondazione Ferrero e la banca d'Alba per un'iniziativa di presentazione di opere del fotografo Ivo Saglietti sul tema dell'esperienza di padre dell'olio in Medio Oriente vi manderemo il calendario e sarà a fine maggio quindi la mostra dura da fine maggio a fine giugno sarà aperta nella sede della banca d'Alba e via Cavour e ci saranno un paio di incontri di cui vi manderemo l'invito grazie ok auguroni di buona Pentecoste grazie grazie buona serata a tutti buona serata a tutti